25 giugno 20 settembre durerà 85 lunghi giorni l'agonia di Domenico Gabriele innocente fra gli innocenti raggiunto da alcuni colpi di fucile esplosi in un campetto alla periferia di Crotone Dodò aveva solo 11 anni Slippin' on a butterfly Slippin' on a butterfly Innocenti fra gli innocenti sono i bambini vittime di mafia colpevoli solo di essere nati in una terra incapace di proteggere i suoi figli uccisi per ritorsione per vendetta o per un banale tremendo errore come nel caso di Domenico Gabriele il 25 giugno del 2009 Dodò si trova esattamente dove ci si aspetta di trovare un bambino della sua età in un campetto di calcio di Contrada Margherita alla periferia nord di Crotone a coltivare la sua grande passione dalla panchina il padre Giovanni lo guarda giocare è convinto che niente di male possa accadergli quando è troppo stanco per stare in campo Dodò gli si avvicina lui si alza e gli dà il cambio 10 minuti a testa all'improvviso però succede qualcosa il brusio del campetto sfuma nelle urla sconnesse dei presenti nessuno all'inizio si rende conto di cosa stia veramente succedendo una pioggia di piombo tinge il verde del campo da gioco del sangue di 11 persone a terra c'è anche il piccolo Dodò è stato raggiunto alla testa da due colpi di fucile qualcuno ha aperto il fuoco sparando nel mucchio per uccidere Gabriele Marrazzo e riesce nel suo intento il boss emergente della criminalità locale è la prima vittima della strage del campetto all'arrivo dei soccorritori però sono le condizioni di Dodò a preoccupare da subito appaiono gravissime il bambino viene trasportato all'ospedale di Crotone per lui e per i suoi genitori Giovanni e Francesca inizia una straziante agonia che terminerà tre mesi dopo il 20 settembre 2009 Dodò smette di respirare i funerali del piccolo si terranno due giorni dopo davanti a una folla attonita in una città paralizzata dal dolore la sera del 25 giugno 2009 non ha niente di diverso dalle altre ma per Dodò è un giorno speciale perché è l'unico giorno della settimana in cui può condividere con il padre la sua grande passione per il calcio ma l'imponderabile accade in una manciata di secondi e per tutti quella sera di colpo cambierà il corso degli eventi era una giornata normale abbiamo passato tranquillamente anzi quel giorno mi ricordo che sono stato a fare da bianchino a pitturare una casa a un mio amico e domenico è venuto pure con me niente poi è arrivata la sera noi quel giorno era di giovedì e praticamente il sabato avevamo una parola di matrimonio di una nipote di mia moglie e quella sera è venuta una ragazza a farsi pure i capelli a Dodò e poi si è fatto un pochettino tardi poi gli ho detto a Dodò non ci andiamo per niente ma lui mi ha insistito ma pure cinque minuti mi porti voglio giocare e così abbiamo deciso di andare non era né un torneo era solo una partita tra amici si era preso questo appuntamento ogni giovedì tra amici si andava a fare questa partita di calcio e siamo arrivati là tutto come normalmente siamo messi a giocare e niente verso prima circa le dieci si sentono degli spari e io lì per lì questi spari pensavano che erano dei mortaretti dei bombetti dico ma qualche scherzo più che altro però poi mi sono reso conto che guardando ho visto tanti ragazzi a terra che erano caduti tutti chi correva a destra chi correva a sinistra e sono corso da Dodò e niente appena l'ho alzato la testa ho visto che c'era sangue sulla mia mano e mi sono accorto che era una situazione abbastanza grave però ho avuto quella fiducia quella speranza che ce la poteva fare comunque mi sono reso della gravità del fatto mi sono reso conto subito quella sera a me sembrava che un'eternità prima che arrivavano il 118 però è arrivato subito perché poi ho preso che i soccorsi sono stati velocemente abbiamo preso la macchina e ho seguito e sono arrivato in ospedale a Crotone dopo domenico ha subito il primo intervento dicono avevano preso pure un fianco un'emorragia per fermare questa emorragia poi mi ha chiamato il dottore e mi ha detto che domenico doveva essere trasportato a Catanzaro perché doveva essere fatto un intervento alla testa che era stato colpito la testa quella sera mi ricordo benissimo che mi diceva papà gioco io perché perché noi quando ci attrenavamo a gioco entravo lo facevo giocare un po' poi entravo io però mi sono fatto sono saltato in aria mi sono fatto male all'occhio e poi mi ha detto tanto tu adesso mi hai accompagnato in infermeria e poi mi ha detto papà adesso gioco io perché tu hai questa benda meglio che gioco io e è entrato a giocare lui però dopo 5 minuti sono sentito quei spari un mio amico che poi è diventato mio nipote ho mandato lui a casa e io sono andato all'ospedale e lui è andato a prendere Francesca e l'ha portato in ospedale era stato informato che Domenico si era fatto male più che altro però poi si è reso conto subito quando siamo arrivati al pronto soccorso non si capiva niente proprio perché a partito c'erano altri ragazzi pure feriti si è reso conto subito della gravità di fatto avevo talmente quella speranza non pensavo mai al male pensavo sempre che vedrai che tutto si metterà a posto e l'ho pensato per 85 giorni questo fino a quando non mi ha chiamato il dottore e mi ha detto da loro non è più con noi l'allarme è scattato quasi nell'immediatezza del fatto perché diciamo la vicenda era davvero eclatante un commando fece irruzione in un cappetto alla periferia nord di Crotone mentre si giocava a calcetto il vero obiettivo era Gabriele Marrazzo un personaggio gravitante intorno agli ambienti della criminalità organizzata il commando armato di fucili a pompa non si fece scrupolo del fatto che ci fossero decine di persone che fra l'altro rimasero ferite dalla traiettoria dei colpi del resto in una delle intercettazioni captate dagli inquirenti alcuni mesi prima di questo grave fatto gli stessi affiliati al cosiddetto clan Tornicchio nel programmare diciamo un'azione eclatante parlavano espressamente di una strage cioè chi c'è c'è il contesto criminale è quello diciamo delle contrade alla periferia nord di Crotone in particolare la contrada Cantorato che è limitrofa a Rocca di Neto la gente di Cantorato si sente più di Rocca di Neto che di Crotone anche se insomma questi pezzi di campagna ricadono all'interno del territorio comunale di Crotone e quella è una zona storicamente sotto l'influenza del clan Giglio di Strongoli sotto la cui ala protettiva agivano secondo la ricostruzione diciamo accusatoria personaggi insomma legati al clan capeggiato da Francesco Dornicchio era un clan dedito principalmente a traffici di droga e estorsioni a piccole imprese agricole della zona addirittura tra i fatti che vennero contestati nell'ambito del processo cosiddetto Apocalypse Now c'erano addirittura delle estorsioni ai giostrai in occasione della festa della Madonna di Sette Porte che si tiene a Rocca di Neto gli inquirenti si sono soffermati rilevando insomma che non fossero dei personaggi particolarmente significativi e questo essere se vogliamo usare questa espressione un clan strascione li portava ad essere più pericolosi dal punto di vista delle azioni criminali tant'è che non si fecero scrupolo di sparare mentre si giocava a pallone insomma quindi con un dispiegamento di forze tali che non poteva essere che contestata l'ipotesi di strage ma come si fa ad accettare la morte di un figlio di un bambino di 11 anni che non sa nulla delle bassezze dei suoi assassini poco più che adolescenti un bambino che voleva semplicemente vivere la sua infanzia custodito dall'affetto dei genitori Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele che dalla sera della sparatoria e fino all'ultimo respiro non lo hanno lasciato nemmeno per un secondo Domenico era un bambino intelligente era un bambino bravo a scuola aveva vinto una licenza premio come migliore che sapeva interpretare aveva vinto il premio Rotter come migliore bambino dell'istituto era un bambino semplice un bambino effettuoso un bambino solare io per Domenico ero un papà ero un amico ero un fratello ero tutto se andavamo a fare la spesa gli si aveva una macchinina che costava due euro mi diceva papà hai pagato la luce la posso comprare avevo la passione del calcio ero un giuventino pensò è giuventino il suo mito era Del Piero ho detto è perché per esempio noi il 17 ottobre l'anno scorso al Teatro Pollo che è un cinema abbiamo fatto buon compagno abbiamo invitato anche scuole che sono venute qualche scuola anche di Tropea e quel giorno Domenico ha fatto 16 anni Domenico era con noi qualche aiuto penso che ce l'ha mandato anche Dodo lassù perché subire una cosa del genere è molto difficile vivere è una cosa innaturale che un padre accompagna il figlio al cimitero deve essere il figlio e penso che questo aiuto andare avanti ce lo sta dando anche lui Dodo quando è nato il 17 ottobre ogni anno ha festeggiato il compleanno a scuola con i suoi amici però poi se le portava anche a casa dicevo guarda che papà mi fa due torte una l'ha portata a scuola e si portava anche i suoi amici a casa nel pomeriggio e niente penso che la forza ci è arrivata anche da lassù però Francesca secondo me non secondo me non mi era sempre detto perché era quando andava lì a trovare in ospedale dice sì Domenico ce la fa Domenico è giusto a tutti sperava pure come lo speravo io lo sperava lei al miracolo pensavamo tanto a questo miracolo che ci potesse arrivare e quando andavamo all'ospedale la mamma gli stringeva la mano lo chiamava lui scendeva la lacrima poi dice Domenico ci sente Domenico e i medici dicevano che la situazione era grave però fin quando c'è vita c'è speranza poi è arrivato un certo periodo anche i dottori pensavano però non s'hanno mai sbilanciato a dirci ci hanno dato sempre una situazione molto molto grave io l'ho preso dagli organi di informazione quel giorno l'agguato la sparatoria al campetto di calcetto e la notizia che il bambino era stato ferito poi attraverso la rete di Libra attraverso i familiari ci siamo avvicinati abbiamo contattato i nostri referenti sul crotonese preso le nostre con delicatezza con umiltà con dignità chiesto anche se si poteva avvicinare la famiglia perché sono momenti molto delicati a quel punto abbiamo come dire fatti i primi passi di avvicinamento di sostegno anche quando Dodo stava in ospedale quando ancora non si sapeva nulla quando stava in coma e quindi l'accompagnamento è iniziato così passo passo è stata una storia veramente drammatica sconvolgente perché un bambino portato là che giocava faceva la sua vita portato dal papà a giocare nel campetto non è accettabile non è accettabile che possa fare quella fine ci siamo dovuti anche come dire fare carico del senso di colpa del papà perché dice l'ho portato io a giocare stupida quella frase quando si dice stava nel posto sbagliato al momento sbagliato proprio stupida sciocca una cosa volgare che offende offende familiare e fa male stava nel posto giusto nel momento giusto stava in un campetto stava giocando quindi sono loro che stavano nel posto sbagliato e quindi da lì abbiamo iniziato il cammino una vera e propria amicizia siamo legati da amicizia tutti i familiari siamo legati da questa voglia di stare abbracciati di stare uniti perché è l'unico modo per superare quel dolore quel dramma questo è stato veramente una tragedia un dramma perché oltre alla perdita di Domenico il fatto stesso che era figlio unico l'unico baluardo che avevano loro in quella famiglia li ha sconvolti del tutto il nostro vicinamento è stato molto molto delicato perché il momento era difficile e particolare e allora la venuta di Don Luigi a casa di Giovanni e di Francesca è stato il momento in cui hanno ritrovato come dire la voglia di ricominciare dopo quel dramma dopo quel lutto poi mano a mano tutta la rete regionale di Libera i familiari ma tutti i volontari tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo regionale si sono avvicinati per accompagnarli nel percorso di elaborazione dell'ulto per uscire per cominciare a portare avanti e raccontare chi era Dodo perché lo scopo poi è quello attraverso il racconto attraverso la memoria continuare far vivere la vittima ma far vivere i familiari perché ci definiscono morti viventi perché quando ti uccide una persona cara l'intero nucleo familiare muore il non fermarsi alla morte non accettare la morte ma voler costruire percorsi voler percorrere le strade della vita le strade della vita che vanno riconquistate vanno riportate a noi a noi ci appartengono sono nostre quindi se le forze del male volevano imporre con quella morte anche la fine della famiglia la fine di quella persona perché uccidendola materialmente tu la fai scomparire i familiari delle vittime con la loro forza elaborando il lutto con la memoria che diventa impegno fanno tutt'altro dicono che è la vita che vince quindi le strade della vita ci portano a riprendere coscienza ad elaborare il lutto ma non fermarci là voler raccontare chi erano i nostri familiari farli vivere attraverso il nostro racconto non darla vinta alle mafie non darla vinta al male ma continuare attraverso quelle memorie che sono sì memorie private memorie che sono nostre però nel complesso 900 morti ammazzati per mano delle mafie 900 sono quelle che conosciamo probabilmente sono molti molti di più però 900 nomi che noi leggiamo nella giornata della memoria richiedono impegno richiedono il nostro contributo richiedono concretezza concretezza significa appunto questo vivere continuare a vivere continuare a costruire percorsi di giustizia di legalità di corresponsabilità la nostra vita di questo episodio è cambiata che adesso andiamo in giro a portare la nostra testimonianza perché queste cose non avvengono perché un bambino ha diritto di giocare ha diritto di studiare non non succedono più queste tragedie Dodò ormai a noi non ci torna più indietro Dodò non ce lo può dare nessuno noi lottiamo innanzitutto per avere giustizia perché è giusto che arriviamo a una giustizia adesso siamo vicino alla Cassazione penso che sono molto fiducioso che arriviamo alla stessa sentenza che è stata in primo e secondo grado questa è una cosa che dobbiamo lottare perché questa nostra terra può cambiare questa strada che abbiamo preso perché abbiamo pure incontrato delle persone giuste adesso facciamo parte dell'Associazione Libre l'Associazione di Don Luigi Ciotti che voglio ringraziare questa associazione perché ci ha portato a uscire fuori non ci siamo chiusi dentro altrimenti saremmo ci siamo seppolti vivi perché uno che si chiude invece così portiamo la sua memoria perché è molto importante fare memoria e nello stesso tempo cerchiamo di smuovere le coscienze che queste cose non avvengono sono stati tutti vicino a partire dalla scuola dalla chiesa dalla cittadinanza tutte le persone abbiamo avuto una soledità diciamo da tutto Grotone tutto si vengono telefonate da tutte le parti da tutta Italia è stato poi un caso nazionale ha scosso molto niente non possiamo dire questa realtà l'abbiamo sentita con tutte da tutti il percorso giudiziario dei tre personaggi coinvolti nella sparatoria non risparmia alcuni colpi di scena il presunto mandante della spedizione di morte nei confronti di Gabriele Marrato viene assolto finiscono in manette il fratello minore Andrea e il presunto complice 25enne Vincenzo Dattolo nei loro confronti i giudici di primo e secondo grado decreteranno la condanna all'ergastolo il carcere a vita per i presunti responsabili della strage nel campo di calcetto Margherita a Crotone che costò la vita al piccolo Domenico Gabriele ferito alla testa esalando l'ultimo respiro all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro dopo tre mesi di agonia la corte di assiste di appello di Catanzaro il 25 febbraio 2014 ha confermato la sentenza con cui l'8 agosto 2012 i giudici di primo grado hanno condannato all'ergastolo Andrea Tornicchio e Vincenzo Dattolo assolvendo Francesco Tornicchio boss dell'omonima Cosca di Indrangheta il collegio ha accolto quasi in toto le richieste del sostituto procuratore generale Salvatore Curcio che aveva invocato 31 anni di carcere per Tornicchio durante la sua requisitoria fiume durata circa tre ore il PG ha ripercorso attimo per attimo il giorno che segnò il destino di Dodò l'undicenne stava giocando a pallone con gli amici quando un gruppo di sicari entrò in azione per assassinare Gabriele Marrazzo un uomo di 35 anni vero bersaglio dell'agguato quest'ultimo fu ucciso sul colpo mentre altre nove persone rimasero ferite un omicidio che è stato definito in aula dal PG una barbarie il punto più alto dell'aberrazione raggiungibile dall'uomo il mio pensiero va ai genitori di Dodò un bambino che avrebbe avuto diritto alla vita al processo oltre ai familiari e alle vittime della strage si sono costituiti parte civile anche il comune e la provincia di Crotone sul grave fatto di sangue gli investigatori hanno fatto luce con l'inchiesta Apocalypse Now condotta contro presunti affiliati alla cosca a tornicchio per antiastrongoli nel crotonese ritenuta satellite del clangiglio in un primo finale dell'indagine che sfociò in un blitz il 25 settembre del 2009 per l'esecuzione di 14 misure cautelari è stato contestato l'omicidio di Michele Masucci che rientra nell'ambito di una faida tra cosche di indrangheta delitto dal quale l'inchiesta ha preso le mosse commesso a strongoli il 27 novembre 2007 all'interno della centrale Biomasse dove la vittima lavorava per questo omicidio è stato condannato all'ergastolo il boss Francesco Tornicchio lo stesso Francesco assolto dall'omicidio di Domenico Gabriele un secondo filone dell'operazione di Apocalypse Now il 23 aprile 2010 ha consentito di notificare otto provvedimenti di custodia cautelare a carico degli indagati già raggiunti dall'ordinanza precedente tra le accuse di quest'ultima tranche dell'indagine anche la strage è avvenuta nel campo di calcetto dove un commando portò a termine un agguato il cui obiettivo era marrazzo ma che costò la vita anche al piccolo Dodò che non è mai arrivato a compiere i suoi 11 anni associazione a delinquere di stampo mafioso nonché i più tipici reati fine come rapine danneggiamenti e estorsioni reati in tema di armi e traffico di sostanze stupefacenti e favoreggiamento sono i reati contestati a vario titolo nell'inchiesta condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone con la direzione dell'allora sostituto procuratore Sandro Dolce il movente della strage era quello della ingerenza di questi gruppi all'interno del territorio di Cantorato dove i Tornicchio volevano dettare legge lo stesso Francesco Tornicchio che è stato assolto sia in primo che in secondo grado agli inquirenti è raccontato di un precedente tentativo di eliminare Marrazzo che risale a circa 15 giorni prima della strage del Campetto Tornicchio in particolare parla di un ingente quantitativo di stupefacenti sottratto ad alcune persone il capo di questo clan Tornicchio viene considerato Francesco a un certo punto secondo quelle che sono le motivazioni della sentenza di primo grado c'è una sorta di rivalsa da parte di Andrea che diciamo non tollera la supremazia del fratello c'è una sorta di inversione dei ruoli questo portò appunto all'assoluzione di Francesco anche se secondo l'accusa ci fu una vera e propria confessione stragiudiziale mediante una serie di lettere del genere accantorato suona la lupara la legge l'ha detto nei Tornicchio e via discorrendo l'impostazione accusatoria originaria vedeva appunto il Tornicchio Francesco come mandante dell'eliminazione di Marrazzo Gabriele la la vittima predestinata era Marrazzo Gabriele e la causale risiedeva nel fatto che il Marrazzo avrebbe secondo l'accusa invaso il territorio di competenza da un punto di vista delinquenziale ovviamente dei Tornicchio facendo entrando appunto in questo territorio cosiddetto del Camporato che è una zona appunto della periferia di Crotone di fatto il mandato risiedeva in particolare in alcune missive che il Tornicchio in stato di detenzione aveva inviato ai suoi familiari in quelle missive nel contenuto di quelle missive l'accusa aveva ritenuto che risiedesse il mandato ad eliminare il Marrazzo di fatto la Corte d'Assise già in primo grado e questa valutazione questa conclusione è stata poi confermata dalla Corte d'Assise d'Appello ha escluso che ci fossero elementi perché potesse essere il mandante ritenendo invece che l'omicidio poi maturato nella nella fattispecie che ha coinvolto altre persone che non erano nell'intenzione originaria appunto perché la vittima predestinata era Marrazzo Gabriele la Corte d'Appello ha ritenuto appunto che fosse maturato invece nel Tornicchio Andrea questo intento omicidiario e in uno con l'altro imputato cioè Dattolo Vincenzo di fatto quali sono gli elementi sulla base di quali è maturata la condanna appunto la causale questa l'invasione del territorio del Camporato da parte del Marrazzo una intercettazione in particolare intervenuta tra i fratelli Tornicchio e la madre in carcere in cui la madre in particolare riferisce al figlio e fa i nomi del fratello Andrea e di Dattolo come soggetti che avrebbero compiuto il fatto contestato poi l'altro elemento è caratterizzato dalla localizzazione dei telefoni dei due Dattolo e Tornicchio in base alle celle impegnate a quell'ora nell'ora dell'omicidio ricadeva nella zona in cui c'erano appunto i campetti dove è avvenuto il fatto rispetto a Dattolo in realtà è sotto questo aspetto noi abbiamo sin da subito contestato l'impostazione accusatoria e da ultimo pur nella consapevolezza dell'esistenza di una doppia conforme quindi si affievolisce sempre di più la possibilità di poter far luce dal nostro punto di vista e chiarire la posizione del Dattolo Dattolo non compare nell'intercettazione non compare nella estorsione che sta alla base poi della eliminazione perché questa invasione del Marrazzo sarebbe consistita nell'aver richiesto una estorsione ad un soggetto che prima era sottoposto ad estorsione da parte dei Tornicchio la strage al Campetto ebbe un impatto devastante sull'opinione pubblica crotonese pur essendo crotone una realtà ad alta densità criminale caratterizzata cioè della presenza pervasiva di cosche tra le più potenti e sanguinarie d'Italia come dimostrano anche le recenti inchieste non c'è mai stata una reazione da parte della popolazione anzi ci sono numerosi dati processuali che attestano il fatto che non solo non si denuncia ma addirittura ci si rivolge al clan per avere protezione per non avere problemi e del resto alla fine di ogni anno per esempio le denunce delle vittime del racket si contano sulle dita di una mano in tutta la provincia di Crotone si sa che la giustizia nei casi di cronaca ha un volto diverso per ogni parte coinvolta per i presunti colpevoli e per gli avvocati che li difendono giustizia è il riconoscimento dell'innocenza per i genitori della vittima la giustizia coincide con la verità ed è l'unica variabile in grado di alleviare un dolore senza misericordia è inutile nascondersi perché c'è una sentenza ormai divenuta irrevocabile che ha ritenuto d'atto lo responsabile del reato di quello articolo 416b cioè di associazione per delinquere di tipo mafioso assieme appunto ai tornicchi e ad altri soggetti e riteniamo però che questo soltanto questo non possa in alcun modo giustificare la condanna del dattolo per il reato di strage c'è un dato che noi riteniamo assolutamente importante e che è stato trascurato dal giudice della Corte di Appello e l'auspicio è che invece la Corte di Cassazione individui questo difetto della motivazione e cioè proprio che risiede in ordine alla ricostruzione della causale e proprio una delle persone offese di questa estorsione interrogata nel giudizio associativo in cui si è svolto il giudizio per l'associazione ha la precisa domanda fatta da un difensore della parte civile neanche da un difensore di imputato dopo l'eliminazione di Marrazzo Gabriele i Tornicchio hanno continuato a chiedere l'estorsione la risposta è stata assolutamente no una risposta negativa che quindi è una circostanza questa che è in contrasto stride terribilmente con la ricostruzione accusatoria che vorrebbe l'eliminazione del Marrazzo proprio perché i Tornicchio potessero avere via libera e quindi richiedere più facilmente le estorsioni su questo la Corte di Assisi d'Appello non ci ha dato una risposta che noi riteniamo essere stata esaustiva ed in tal senso questo è uno dei motivi del ricorso per Cassazione proposto e l'auspicio è appunto che la Corte di Cassazione annulli la ordinanza affinché un'altra Corte di Assisi d'Appello valuti in maniera più serena questi elementi che noi riteniamo essere assolutamente a discarico a favore degli imputati lo stato d'animo del mio assistito in questo momento è di speranza affinché la Corte di Cassazione riconosca individui quelle che sono state le censure mosse alla sentenza della Corte di Appello perché l'ergastolo che gli è stato dato è un ergastolo cosiddetto ostativo cioè in altri termini vuol dire che con una condanna di questo genere egli non uscirà mai più dal carcere a maggio ci sarà la Cassazione quel giorno si deciderà praticamente la sua vita perché potrebbe significare che egli da quel giorno sarà finito ogni speranza per poter uscire dal carcere è giusto che la giustizia arriva noi adesso siamo vittime familiari di vittime di mafia dalla tragedia su questo io posso dire che abbiamo ottenuto giustizia diciamo fino adesso anche se manca un grado però lì insieme a noi ci sono persone che spilano dicono il suo nome di quel familiare che ancora non si sa né giustizia né verità perché da questi adesso siamo più tutti questi nomi che si leggono sono più del 70% che cercano giustizia e verità quelle persone che l'ho preso mi sembra ad aprile quando sono stati fatti degli arresti che hanno arrestato 14 persone e niente poi siamo stati chiamati dei giornalisti poi usciti il giornale in questi 14 ci può essere la mano che è sparata ai campetti seguendo tutto il processo fase per fase perché l'ho seguito tutto ci sono state delle prove che sono fondamentali darci questa giustizia quando siamo andati andavamo in tribunale ci guardavano però io non piegavo la testa perché la dovevano piegare loro loro avevano fatto uno sbaglio enorme perdono non le chiederò a me perdono che gli serve loro loro si devono convertire col padre eterno il perdono lo devono dire al signore perché domani ne avranno bisogno io sono una persona umana è inutile chiedere a me perdono io aspetto questa sentenza che è la Cassazione che viene confermato l'ergastolo fino a appena mai e niente approssimiamo così approssimiamo a portare questo nome e cognome a fare memoria e che queste cose non succedano più e che ogni bambino ha il diritto di giocare e che ogni bambino